Allora, quale trattamento facciamo oggi? Mani, piedi, massaggi, pulizia del viso? Qualcosa di meglio, maschera facciale. Molto bene! Ce ne sono di tanti colori e diverse formule. Dunque, questa è idratante, questa invece è lenitiva e quest'altra è la maschera canina. Canina? Non ho mai sentito parlare di questa maschera. Solo perché è per i cani. Questa è per te, Taffy. Carina, vorrei che ci fosse qui Etta, la mia gatta, a fare la maschera con noi. Anche se sono sicura che non la gradirebbe molto. Sai come sono i gatti. Non riesco a smettere di pensare alla collaborazione musicale di cui abbiamo parlato. Non sarebbe grandioso allestire un concerto tipo quello dal vivo che abbiamo fatto a Times Square? Sì, potremmo improvvisarne uno fantastico al mono. Peccato solo che resterò ancora per pochi giorni. Abbiamo giusto il tempo di scrivere la musica, figuriamoci provare. Non credo che riusciremo a prepararci al meglio. Il tempo è sempre sufficiente quando si hanno amici in gamba che non vedono l'ora di aiutarti ad organizzare qualcosa di speciale. Chiamo i rinforzi immediatamente. Ci stanno aspettando dietro alla casa dei sogni. È una cosa così elettrizzante! Uno show improvvisato sul molo è la vetrina perfetta per mettersi in mostra. E adesso mettiamo in mostra il tuo stile. Barbie, che ne diresti di una nota di colore ai capelli? Ma certo, mi piacerebbe una ciocca viola abbinata alla chitarra. Vi ritrovate in questi abiti? Questo mi piace alla follia! È decisamente il mio genere! Il mio è bellissimo! Abbiamo risolto il lato estetico, adesso ci dobbiamo concentrare sul suono. Che ne dite di darci un piccolo assaggio del vostro sound? Sì! Allora, cominciamo! Brooklyn, mettiamo in pratica quello che ci è venuto in mente quando siamo andati a fare la passeggiata. Intendi qualcosa sull'aprire la mente all'ignoto e a tutte le meraviglie che si possono scoprire? Esattamente! Cinque, sei, sette, otto! Ci prepariamo! Oggi c'è grande show! Sento nell'aria La musica da un bel po' Siamo tutti pronti, dai! Wow! Hey! Sì! Ragazze, mi avete fatto venire la pelle d'oca! Sarà sicuramente un successone! Inviteremo tutti quelli che conosciamo! A proposito di quelli che conosciamo, dove saranno Daisy e Teresa? Non lo so, non hanno risposto né ai messaggi né alle chiamate. Mi è sembrato che si siano offese perché non ho pensato di invitarle alla spa insieme a noi due. Mi sento in colpa, io non volevo che ci rimanessero male. Però posso capire che si siano sentite escluse. e proverò a richiamarle. Le tue amiche sanno bene come sei e sono sicura che capiranno. Grazie, Brooklyn. Vuol dire molto per me. Figurati. E vuoi sapere cos'altro ti dico? Che dobbiamo andare avanti a provare! Trover te! Vere amiche! Vivono mille avventure! Vere amiche! Insieme senza paure! Can, canta e balla con la fantasia!